Ciao a tutti, qua siamo al Pantheon, siamo a Roma, stiamo cercando di fare una specie di vlog e vi faremo vedere dove andremo oggi. Se la farò entro oggi a riprendere per bene? Non lo so. Amore, ciao. Proseguiamo il nostro tour. Amore, ti è piaciuta questa prima tappa? Sì, mi è piaciuta. Alla prossima tappa. La prossima tappa vi faremo vedere, siamo a piedi. Seconda tappa, Piazza Navona, siamo arrivati tutto a piedi, ora ve la faccio vedere. Sì, non puoi usare più. Le persone che si fanno le foto, riprendono tutto. Merito che fotografa pure tutto, è un cinese mancato. Andiamo a vedere quella fontanina. Praticamente ogni stato rappresenta una cosa diversa. e cercheremo di visitarlo. Cercheremo di visitarlo in qualche tempo. Quella è avanti alla cacca da su? Lì si, c'è un gabbiano. C'è un gabbiano. Sembra pazza che si è allacciato. C'è un gabbiano. E' un gabbiano. C'è un gabbiano. C'è un gabbiano. E' un gabbiano. Anche noi, c'erbelle, l'ingerezza dell'Italia, dopo questi cannoni c'erano copiati, i cannoni siciliani, i cassini di tutta, i cavioli. Amore, cosa volevi? Cosa volevi? Il maritozzo. Il maritozzo. Qui quando si parla di mortadella, non si scherza, non si scherza con la mortadella. La voglio, voglio a casa questa. E qui non c'era il maritozzo. Non c'era il maritozzo. Non c'era il maritozzo. Ed ecco che siamo arrivati pure in piazza San Pietro. La terza tappa l'abbiamo conquistata. Riprendimi, amore. E qui è un po' nuvoloso, c'è un po' di vento. che si sta promettendo una bellissima giornata e delle foto carine, spiritose. E vi mandiamo un bacio da qua, amore. Vuoi dire qualcosa? Allora siamo ancora ovviamente alla ricerca... Un bacio ai miei panni. Sì a tutti. Siamo ancora alla ricerca... Che cosa? Del maritozzo. Del maritozzo. E di una cosa buonissima del franto che vi faremo vedere. Siamo arrivati alla quarta, quinta tappa. Va bene, non mi ricordo più il numero. Siamo arrivati qui a Piazza di Spagna. Troppo sole, ok. Siamo passati già per questa via, con tutte le marche. Questo non ve lo posso spaventare, questo non ve lo posso spaventare, questo non ve lo posso spaventare. Bene! Pronto? Quante volte vuoi ritornare? A meno un'altra volta, dai! Quanta! Altra tappa della giornata, non so se mi sto riprendendo ma va bene così, amore. Buttiamo questa monetina. Sì dai, buttiamo. Vai! Sì dai, buttiamo! Ritorneremo? Sì! Non si chiama quello che è lì? Non si chiama quello che è lì? Altra tappa, altra corsa un po' provati. Sì! Dall'avventura di questa giornata siamo arrivati al Colosseo. È un pochino così imballato perché stanno costruendo la linea C, un'altra metropolitana. e... Amore, cosa vuoi dire? Siamo a caldo, a freddo, a tiepido... Siamo stanchi. Vogliamo dire che siamo stanchi? Siamo stanchi. E siamo ancora alla ricerca del maritozzo. Sì. Ci hanno consigliato la maritozzeria. Il maritozzaro. Il maritozzaro. Scusate, il maritozzaro. Il maritozzaro. Il maritozzaro. Ma dobbiamo vedere se possiamo andarci, se abbiamo il tempo del maritozzaro. Intanto ci godiamo questo panorama. E ora foto col maritozzo. Vabbè, col colosseo. Guarda. Il maritozzo. Il maritozzo. Il maritozzo. Il maritozzo. Abbiamo trovato il maritozzo. Amore, all'assaggio del maritozzo. Il maritozzo mangiato molto buono. Metà all'uno. Ora pan giallo. Facciamo vedere. Tutta frutta. Secca. Marmellata. Cacao. Cannella. Proviamo. E' la cannella, guarda. Allora è questo. Pan giallo. Gusto molto particolare, speziato. Paniglia. Cannella. Sì. Cannella. Va molto bene. Ma c'è un'altra spezia che domina. Particolare. Buono. Ma c'è un'altra spezia che domina. Buono. 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 Poi? È vero? Sì. Buono. Buono. E' una buona. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.